Luca è un giornalista e ha un'idea Fondare un nuovo quotidiano Sono scelte difficili da spiegare alla gente Mette insieme un gruppo pronto a tutto E prova a motivarlo Non avrete l'aspetto di una squadra vincente Ma voi siete vincenti Trova una sede perfetta Mio Dio, che topaia L'amministratore unico, Tommaso, si sforza di essere realista Noi lavoreremo all'interno dei limiti che abbiamo Serve più budget Quello che ti chiedo è semplicemente di accettare di non spendere soldi che io non ho Gli ex colleghi di Luca lo avvertono Il primo che attraversa il muro è sempre insanguinato La scommessa è iniziata Ora contiamo le carte al tavolo del blackjack C'è grande calma L'ottimismo regna Adattarsi o crepare Follia! Pura purissima follia! Luca Telese Tommaso Tessarolo E tutta la grande squadra di pubblico In... L'arte di vincere Ce la puoi fare? Follia! 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 Grazie a tutti